Un infarto in spiaggia a Senigallia e uno nel Maceratese, decine e decine di persone soccorse all'ospedale di torrette per svenimenti, disidratazione, colpi di calore. Il bollettino di una giornata da caldo record nelle Marche, dove in quasi tutte le località sono stati superati abbondantemente i 40 gradi a livello di temperatura percepita. Per quanto riguarda l'effetto AFA, solitamente si ha un indicatore che indica il disagio bioclimatico dovuto all'effetto combinato di temperatura e umidità. Questo indice è noto anche come temperatura percepita e oggi ha dato valori superiori ai 40 gradi su quasi tutte le zone delle Marche. Con valori ad esempio a Scolipiceno, temperatura di 36 gradi reali con 42 gradi di temperatura percepita. Giornata dura per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per sedare i roghi e incendi di sterpaglia ancora più vigorosi per le alte temperature, come è successo a Passatempo e Padiglione, a Dosimo e a Senigallia. Il pronto soccorso di torrette si prepara ad affrontare un'altra giornata intensa, quella di mercoledì. Per il momento, per quanto riguarda gli ingressi, siamo in linea con i numeri dell'anno scorso, dice il dirigente del pronto soccorso Polonara. Ancora caldo record per giovedì, poi venerdì si torna a respirare. Da venerdì si stavoreranno delle correnti occidentali che determineranno l'ingresso di aria atlantica che porterà le temperature a valori più bassi, però gradualmente circa 1 o 2 gradi al giorno. La pioggia è attesa a inizio settimana. Per lunedì è atteso il transito di una perturbazione che dovrebbe portare dei temporali sparsi e un calo delle temperature più marcato.